L'anno prossimo andrai le superiori ma non sai ancora qual indirizzo scegliere? Fai il test di 10 LOL e scopri la scuola giusta per te. Rispondi alle domande e segna la lettera corrispondente. Cosa ti aspetti di più dalle superiori? Materie entusiasmanti, professori saggi e preparati. Farti dei nuovi amici. Dopo le superiori vorresti Trasferirti all'estero Andare all'università Lavorare Nel tuo futuro lavoro immagini Di viaggiare e conoscere persone Fare importanti scoperte Creare qualcosa con le tue mani Tra queste, quale materie ti piacciono di più? Lingue straniere Matematica e italiano Educazione artistica e tecnica Nella tua scelta tieni conto Della vicinanza a casa Delle materie insegnate Degli amici che scelgono la stessa scuola La scuola superiore è Un mezzo per imparare un lavoro Un ponte verso l'università Una sofferenza lunga 5 anni Nel tempo libero ti piace Ascoltare i tuoi cantanti preferiti Leggere Dedicarti al fai da te E adesso somma le lettere uguali E scopri il tuo profilo Maggioranza A Indirizzo linguistico Da grande vorresti viaggiare per il mondo E incontrare nuove persone Scegli liceo linguistico O una scuola tecnica di lingue Avrai la possibilità di vedere città lontane E imparare a chiacchierare con chiunque Maggioranza di B Liceo scientifico o classico Forse non sai ancora quale lavoro vorresti fare Ma di sicuro vuoi andare all'università Scegli quindi un liceo La tua mente verrà solleticata Da migliaia di interessanti nozioni Se pensi che scientifico e classico Siano profondamente differenti Fai attenzione Hanno molte materie in comune Maggioranza di C Indirizzo artistico o tecnico Non riesci a stare neanche 5 minuti Con le mani in mano Senti il bisogno di fare E costruire, assemblare e dipingere Punta sul liceo artistico O sull'istituto tecnico Molte materie sono svolte in laboratorio Dove puoi dare sfogo alla tua creatività E imparare in modo pratico